Via Cappotti e Berretti, magari non adesso perché l'ondata di caldo anomalo che sta investendo la Sicilia orientale già nei prossimi giorni dovrebbe attenuarsi anche se si preannuncia weekend tutt'altro che invernale. Abbiamo questa imminente ondata di freddo, di freddo normale, non eccezionale, quindi tra giovedì e venerdì comunque torneremo all'inverno. Avremo anche qualche pioggia, anche se non particolarmente abbondante e non sufficiente a colmare il deficit che stiamo registrando in questi giorni. Diciamo che il quadro di siccità va peggiorando sulla Sicilia sudorientale, siamo anche qui a una siccità che di giorno in giorno si aggrava, si ripercuote soprattutto sul fumento. Niente cambio di stagione dunque, i giubbotti rimangono a portata di mano, anche se il meteo pazzo di febbraio certamente fa calare il sipario sulle attività sportive invernali. In effetti siamo vicini all'eccezionalità dal punto di vista termico perché soprattutto qui in Sicilia orientale stiamo registrando temperature massime, ai massimi storici assoluti.